Place to be Siena Top 10, ecco i 10 migliori eventi della settimana a Siena e provincia. Sigla! Il 5 maggio, a Cacio e Pere, DJ set con vinili e nastri su apparecchi vintage originali, restaurati e funzionanti. Ascolteremo dal jazz al beat, dalla musica italiana anni 60 al lounge più sensuale, dal rock britannico al funky più ritmico. Insomma, tutti quei pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana internazionale. In Valle Rozzi si terrà la festa di primavera, venerdì 5 e sabato 6 maggio, dalle ore 20, con lo street food in Fontenova, con musica in società. Venerdì 5 maggio, a partire dalle 22.30 al Civico 6 in Via dei Rossi, verrà inaugurato l'evento Venerdì dell'Estate, che accompagnerà tutti i verdi dell'estate universitaria a Siena. Venerdì 5 maggio, al Parsifal Guinness Pub, a partire dalle 19.30, si terrà una mostra fotografica sul tema studente e città, come e quanto lo studente vive Siena. Sabato 6 maggio, dalle 17, ad Asciano, alla chiesa monumentale di Sant'Agostino, si terrà l'inaugurazione della mostra Cronache di Misericordia di Domenico di Bartolo e la cena, alle ore 20.30, presso le scuderie del Granduca. Sarà ospite il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Sabato 6 maggio, arriva Siena Francigena. Il tracciato si sviluppa interamente sul cammino della Via Francigena, con 21 km di percorsi, organizzato dal gruppo Trekking Senese. Venerdì 5 maggio, per la rassegna di eventi Micat in Vertice, si terrà il Chigiana Children's Chore, presso la chiesa di Sant'Agostino. L'evento è organizzato dall'Accademia Chigiana, dirige l'orchestra Raffaele Puccianti. Il 6 maggio, a Montalcino, a partire dalle 22, tornano gli Elvio e le relazioni a distanza, per inebriare i partecipanti dell'eroica nel main event di sabato. Pezzi di rock classico straniero ed italiano, inediti e ingresso libero, per chiunque abbia voglia di godersi uno show fuori dall'ordinario, circondato da un fantastico chiostro nel cuore del borco di Montalcino. Il 6 maggio, Andrea Cerretani Trio e Leonora Bagnani presentano Soundy Night, organizzato da Birra La Diana, una serata all'insegna del jazz e della bossa nova, con incursioni nel samba e nello swing. Il 10 maggio, dalle ore 22, Ampa Sun, live sul palco del Cacepere, con Giulia Sarno, Emanuele Pordellis, Davide Matteini, per un'atmosfera tutta da scoprire. Se ti è piaciuta questa puntata, faccelo sapere nei commenti. Tutti i suggerimenti che ti vengono in mente sono ben accetti. Se vuoi essere al top, condividi e metti mi piace. Posta foto e video taggando questo di Tiena. Ti condivideremo sulle nostre pagine. Ci vediamo la prossima settimana. Stessa ora, tanti posti diversi. Ciao da Elena e da Bosto di Tiena. Ciao da Musica.